Firmata un'interessante convenzione tra l'Università di Teramo e l'Accademia Internazionale di Formazione Arte e Spettacolo di San Benedetto del Tronto. Si tratta di una nuova collaborazione all'interno del corso di laurea triennale in discipline delle arti della musica e dello spettacolo e del corso di laurea magistrale in media, arti e culture, finalizzata proprio alla formazione della figura professionale del progettista culturale. Un'iniziativa che fa tornare la speranza in questo momento di depressione culturale legato alla pandemia. Soddisfatto il magnifico rettore Dino Mastrocola. Investire in questo settore sia a livello di formazione ma anche di rapporti di ricerca che poi inevitabilmente porteranno anche delle ripercussioni economiche penso che sia un passo fondamentale. a riprova della volontà e della capacità dell'Università di Teramo di interagire con il territorio, quindi con questi scambi osmotici costanti, anche in previsione della realizzazione della cittadella della cultura che è un auspicio fortissimo ovviamente, quindi sia attraverso l'utilizzo dei fondi Masterplan ma anche attraverso altri fondi perché il progetto è un progetto veramente mastodontico e avveniristico quindi dobbiamo cercare di completarlo il prima possibile e il meglio possibile.